C'è il video C'è l'amore, l'arretto, il cazzo Perché siamo in Champions League Mamma, mamma Sono tanto felice per me Il fumo è peggio a me Perché siamo in Champions League E anche se può sembrare non bello Non venga a fare il gesto dell'ombrello Ma di chi c'è l'allet dure un po' E anche se, trio quattro e no Adesso pagano per l'armanis perché aiuta nella maris Poi fare un bada al spagnolo E' un argento che spasca E' un bada di capo, no? Perché è necessario al più E se l'abitro non fa il cuore E vai a noi con il sterling tonico E se ti chiedono di me Bada di formazione in me Il lontur nel merda dell'Europa Dopo sentar una ferra vita loca E lo casiamo in cuore legato Due elettriche rossi aggiatte E quando la gente unirà Dirà Usu e guarda lui Le brughe alzò Su le mani! Forza, buona! Forza, anche tu lì che sono sedere E li vedo, eh! Anche le due salve in prima fila MAMMA 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 Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Voi sapete perché molti bambini sono diventati giuventini? No dai. Sono diventati giuventini perché c'è stato quell'anno che siamo andati in Serie C che siamo andati a giocare in luoghi come Brescello, Leffe, Crevalcore. Ehi, Morandi. Volevamo andare con me, volevamo andare in Leffe e Bologna. Dov'è Morandi? Eh? Dov'è ora Morandi? Era qui un attimo fa. Dov'è? A Lecce? Abbiamo abbiamo... Tiro giù in Leffe e ti dico Gianni chiedi dove è lo stadio e Gianni fa dove è lo stadio? E uno fa, lo stadio. Ah, il campo sportivo, avevamo i biglietti. Avevamo i biglietti distinti centrali, distinti poco perché abbiamo tirato delle madonne. Continua. Centrali sì. Il nostro posto era grappati alla rete metallica. Siamo entrati dentro la partita in iniziativa da un quarto d'ora. chiedo a un indigeno e dico come stanno? Uno zero per il Leffe. Ma ferrappoglia. Senti Andrea, dimmi una cosa, com'è andato il film? Bellissimo. Com'è andato il film? A Piazza Maggiore, a Piazza Maggiore. Eh, come è andato il film? È stato bellissimo. C'erano, la polizia ha detto 4-5 mila persone. Hai capito. Sì. E alla fine della proiezione, che poi fra l'altro abbiamo rischiato, qualcuno si ricorda, abbiamo rischiato perché c'era un temporale che girava. Ecco, stava arrivando. E girava attorno Bologna e pare abbia colpito la festa della Lega. Che roba! E c'era Bignami che parlava. Dice, mi hanno chiesto, ma tu ce l'hai con Bignami? No, io sono di Bologna, amo il Bologna e non voglio avere niente a che fare con della gente che ha un cognome che inizia per B. E allora invece il temporale, pilotato da Orsolini e Freuler, ha fatto un giro largo. Pare che abbia colpito anche, sì, a Salvini mentre pisciavano il giardino. Ha diritto, ah, per quello vedevo un po' di bagnato io. No, no, ma non ho capito. Ah, ho capito io. E poi se ne è andato. Alla fine della proiezione c'è stata un'ovazione, è vero? Si sono alzati tutti in piedi e hanno detto Sospers, leste l'uomo. No, no, un applauso, un applauso. Oh, ho fatto il regista, vi rendete conto? Ho fatto il regista, tu vai qui, tu vai là. Tu, eh, lei ha fatto la parte di Bologna. Eh, sì, si è stata tutti in su. E ha fatto la parte di Bologna, che è una cosa che le rimarrà tutta la vita. Ha lavorato con Pupi Avati, lei ha lavorato con Risi, hai lavorato con? Virzi. Eh, con Virzi. Tutta gente che finisce per i. Risi, Virzi, Avati. Vanzina. 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 E, insomma, lei però verrà ricordata solo per aver fatto la parte di Bologna, nel mio docufilo. Pensa. Pensa, Beppe, tra cento anni, quando proietteranno questo vecchio reperto, che troveranno da qualche parte, impolverato, diranno, ma chissà com'erano questi cazzoni qui. Io sono Bologna. E ricorderanno come era Bologna dal dopoguerra ai tempi nostri. Mi rende orgoglioso questo, perché è stata un'emozione indescrivibile. E soprattutto quando sono arrivate sei o sette ragazze estoni, che hanno detto in inglese, ci è piaciuto moltissimo, che vorremmo portare il DVD in Estonia, per proiettarlo, per farlo vedere. Pensa, in Estonia. Che bello, che bello. Bello, bello. Però, eh. Sei un grande, Andrea. Sei un grande, cioè. Sei unico, sei unico. La fortuna di poter lavorare a un progetto del simile. Comunque avete sentito anche stasera la terra bolognese. E quanti talenti, musicisti, editori. Ma io infatti vado alla ricerca di questo. Cantanti. Sai quanta gente è nata qui? Per esempio, molti non sanno che Alessandro Haber è nato a Bologna. Che Mara Maionchi è nata a Bologna. A Bologna. Bellissima la frase che conclude i selfie finali di Andrea Roncato, che dice, non sempre il nostro cuore è dove abitiamo, dove stiamo vivendo. Esatto. E lui era veramente commosso. Fanculo, va là. Oddio, oddio. Allora, quando abbiamo, quando ho scritto questa canzone qua, c'era ancora Maifredi. E poi dopo, con l'andare del tempo, abbiamo fatto questo arrangiamento. Credendo che la proprietà fosse americana, abbiamo messo questo inizio. In realtà, poi invece ho sbagliato tutto, però, per scaramanzia l'abbiamo tenuto. Salutate. Oh, che moro in un solo. La mia voce canterà fino a lassù. E andiamo. Oh, che vorrei un solo blu, che mi parte forte, forte anche di più. Mai vorrei un solo blu. Le mie gambe sono con te, le mie mani sono con te, la mia voce canterà fino a lassù. blu. Blu è sangue nobile, rosso è la passione. Blu è sangue nobile, rosso è la passione. Berani, burgarelli, nils. All'epo è scutti, bernandini. Da l'ara, da l'ara, da l'ara. Bologna, sulle mani. Forza Bologna. Blu è sangue nobile, rosso è la passione. Blu è sangue nobile, rosso è la passione. E andiamo. Blu, blu è sangue nobile, rosso è la passione. Aspetta, aspetta, eh? Ma non siete in vacanza? Ma allora? Ma chi è che vuole notare? Ma tesoro, aspetta un secondo, dopo c'è il tavolo lì, sei te? Eh, se copri la cappella del microfono fa così. Si chiama cappella, eh? La cappella. Se copri la cappella di quel microfono bel cazzo fa... Ma appunto. E ho lì che è pronto, eh? Questa canzone, cioè, se io fossi stato promosso, diciamo, da un ente importante, questa canzone sarebbe arrivata nei primi posti delle classifiche. Perché esprime proprio tutta la voglia di rivoluzione che c'è ancora in questa città. Questa è una città dove è nato tutto. E dove è la capitale del jazz europeo per vent'anni. Le cooperative. Pensate, l'associazionismo. Tutti gli io che arrivavano dal ventennio si sono trasformati in noi. I grandi musicisti, i cantanti, i compositori, gli strumentisti. E' nato tutto qua. Se voi andate, che sei, in Abruzzo. In Abruzzo. E' nato un cazzo, scusami. Eh beh, certo. No, di queste cose qua. Qui sono nati 12 milioni di orchestre, di musicisti. Ma cosa stai dicendo? Perché? Ma cosa, caro? Perché? Dimmi un gruppo, un gruppo abruzzese. Ma io adesso non ci sono più in Abruzzo. Però ci sono tanti gruppi al Teatro Comunale dell'Aquila. Che cacchio stai dicendo? Ma no, il Teatro Comunale dell'Aquila. E poi adesso, alla fine di agosto, fanno un grande spettacolo all'Aquila con il maestro, che non mi ricordo come si chiama, con tanti artisti. Gianni Morandi. Tutti di Bologna. Ci sono anche gli Aquilani. Ci sono anche gli Aquilani. E' una festa molto grande. No, ma ho capito, voglio dire, però. Capito cosa? Eh? Hai capito? Cioè, dimmi il nome di un cantante dell'Aquila. Oddio, ma non mi vengono in mente adesso. Eh? Eh? E' un giornalista. Ma Bruno Vespa è un giornalista. Che cavolo stai dicendo? Ah sì? Io pensavo fosse un rocker Bruno Vespa. E' un giornalista? Sì. Bruno, Bruno Vespa. No, sono d'accordo, Bruno Vespa è... Ma cosa è andata a dire questa Bruno Vespa adesso? E' dell'Aquila, Bruno Vespa? Eh sì, ho fatto scuola con lui io. Hai fatto? Scuola con lui. Eh? Perché cosa hai da dire? Io non ho detto niente. Hai fatto scuola con Bruno Vespa? E allora... E ti appunto? No, non mi appunto. Per fortuna. No, Bruno Vespa. Ma se l'aveva il plastico? Tanto di... Eh? Se l'aveva il plastico? Non lo so. Bene, senti. Devo dire che tutte le volte che vedo lei, io vedo un po' la Meloni, ma sono preoccupato. La Meloni, la Meloni lei. Io sono un po' preoccupato per questo governo, perché tu lo sai che per tanti secoli si è detto avanti Cristo, dopo Cristo, no? Sì. E dalle sue ambizioni mi pare che traspaglia l'idea che tu l'imposti deve dire avanti Meloni, dopo Meloni. Avanti Meloni. Ecco. Mentre invece noi abbiamo bisogno, a parte che Meloni, io non ho niente contro Meloni, è la tua parente, contro Meloni e i prosciutti non c'è niente, soprattutto se sono... Meloni, cocomero e con prosciutto. E dicevo che questo è un luogo dove è nato tutto, è nato il rock and roll in Italia, è nato, sono nati pettori, scrittori, guarda, non hai idea, tu lo sai che... poi vado, eh? Dove vai? Cinque anni fa l'Europa ha indetto una sorta di studio e hanno scoperto che l'Emilia Romagna è, in relazione a uno degli abitanti, il posto che ha dato storicamente il maggior numero ai talenti. Ecco. Giuseppe Verdi, Pavarotti, eh, hai capito? Stiamo parlando di un florilegio di persone incredibili che hanno sfruttato l'humus locale e sono cresciute in un luogo meraviglioso. Perché? Non lo so. Bella roba! Perché noi siamo il luogo della rivoluzione e adesso dopo un medioevo, un medioevo fatto di televisione, di... e io dico ma vi rendete conto, vi rendete conto che tutta la musica che ho sentito che mi hanno ispirato, per esempio, non è giusto, James Brown non si sente più, Ray Charles non si sente più, è morto ma non si sente più, è morto ma non si sente più, è ingiusto, Ray Charles non si sente più e Albano sta benissimo. Lo fai venire a Ozzano, Albano? Eh? Lo fai venire il prossimo anno a Ozzano, Albano? Penso che Albano è l'unico che una volta si chiamava Al-Bano, eh? è l'unico che ha riunito il cognome e ha separato la famiglia. Lo fai venire qua? No, io sono... Io, 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 niente! Sì, ma io non faccio venire, c'è Albano, io dico delle... delle tali cattiveri di confrontiamo, una volta ha saputo che ho detto questa cosa qui. Ah sì? E tu che cosa vorresti insinuare? Io dico niente, io dico solo che tu quando 300 anni morirai ti troverai all'inferno a parlare di tenori insieme a Claudio Villa. Ecco, appunto, bella roba, eh? Eh no, vabbè, Albano è un grande professionista e... Ha del vino buono, eh? Eh? Ti piace il vino a te? Cioè, ma non abbiamo neanche bisogno di andare ad Albano, eh? Bello! Lui c'ha il vino buono. Ma che vino buono? Noi invece qua in femminile abbiamo l'Albana che è meglio di Albano. Scusa. Insomma, dobbiamo andare in Salento... Ah beh, perché... perché la Lecina... Ma lui c'ha un sacco di... La Lecina si compra un vestito nuovo, ma... Ma lui c'ha un sacco di donne intorno, adesso l'abbiamo scovato in spiaggio con una ragazza giovane. Chi lui? Eh beh... Ah, capirai. Capirai. Sai cosa gli fai alla ragazza giovane? Eh, lo so io quello che gli fai. Mi racconta? Lo so io quello che gli fai. Lui? Eh, sai come la mina? Sai come la mina? Siamo ragazzi, dovete partecipare tutti, eh? Scatenatevi! Tutti, scatenatevi! Vedete qua vicino, ho bisogno di voi, eh? Mezzanotte. Eh, mezzanotte. Perché qui ci vuole un po' di rock and roll. Ti svegli al mattino, la vita ti chiama, qualcuna ruba il nostro panorama. Non c'è una ragione, non c'è una passione. Ti accendi e ti spegno come una televisione. Oggi si stanca, la musica è stanca, chi si ricorda più degli anni 70? C'era rivoluzione di quelle persone e la gente si batteva per un bambino. Ci vuole un po' di rock and roll. E fa muovere la gente. E basta un po' di rock and roll. E un donato solamente. Io lo so che lo sai che lo so. Oggi sei giù, domani sei giù. Non c'è nessuno che ci crede più. Perché delusione, nessuna ragione. Sono Facebook, YouTube e rassegnazioni. Perché ci vuole l'amore, ci vuole il cuore. Ci vuole che qualcuno adesso c'è nel motore. Ci vuole un po' di rock and roll. Per svegliare un po' la mente. Ci vuole un po' di rock and roll. Non c'è nessuno che ci crede più. Io lo so che lo sai che lo sai che lo so. Ci vuole un po' di rock and roll. 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 Ci vuole che qualcuno adesso c'è dal motore. Ci vuole un po' di rock and roll. 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 Banchino! Grazie! Grazie ragazzi! Bene! Grazie ad Andrea! Grazie a tutti! Adesso vado lì eh! Stasera abbiamo una novità! Abbiamo anche il CD con tutte le canzoni e la musica del docufilm In più c'è il DVD e il singolo del Bologna in Champions League non siete come dico di solito obbligati ad acquistare nulla ma chi non lo farà andando a casa avrà un piccolo incidente stradale L'Umberta Maestro Maurizio Di Leni Mary Chiara Sani Buonanotte Buonanotte Il prossimo anno Ci vediamo il prossimo anno Buonanotte a tutti Grazie Buonanotte Ci vediamo il prossimo anno Un bacio a tutti Un bacio a tutti Grazie 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 Vi voglio venire Ciao Ciao Il prossimo anno Ci vediamo Ciao Grazie